150 medici di base provenienti da tutta la Toscana, riuniti sotto il simbolo della coccarda gialla, hanno manifestato a Firenze davanti alla sede della regione toscana per chiedere dignità per la medicina generale. I dottori di base hanno parlato di una situazione ormai insostenibile per la medicina generale che durante il periodo di pandemia è stata presa d'assalto da cittadini in cerca di sostegno medico alla luce dei tracciamenti saltati e delle difficoltà nel contattare i numeri verdi sanitari. A partecipare anche una rappresentanza pratese di medici di base che aderiscono al movimento spontaneo, tra i quali Rosanna Sciumbata, presidente della Commissione Comunale Sanità. Era necessario perché l'ondata del Covid, in particolare l'ultima, ha fatto risaltare notevolmente le carenze territoriali, quindi le difficoltà che ha la medicina generale a svolgere il proprio ruolo. Una serie di disagi che già comunque da tempo erano emersi e che sono svociati al pulmine verso Natale, quando c'è stata un'ondata con dei numeri rilevanti che si sono trattati tutti sul territorio. Una rappresentanza dei medici di base è stata accolta in regione da Daniela Matarrese, ex direttrice dell'ospedale Santo Stefano e attualmente dirigente in regione. A lei è stato consegnato un documento unitario di categoria con una serie di richieste alla politica. Un documento in cui si chiede meno burocrazia, in cui si chiede una maggior presenza nel sistema sul territorio per evitare a noi tutta quella serie di tentativi di soluzione di problemi che il sistema sanitario non riesce a risolvere, ma allargandoci il Covid, faccio un altro esempio, il problema del U, della prenotazione di visite specialistiche, di esami strumentali, che è arrivato a un livello ormai non più accettabile. Quindi la carenza di medici abbiamo portato sul tavolo della regione, a un livello ormai non più accettabile.